Siamo a Palazzo Lascaris per presentare una ricerca sulle politiche per la montagna in Piemonte. La ricerca è stata realizzata dall'IRES Piemonte, l'Istituto di ricerca della regione, su commessa del NUVAL, il nucleo delle valutazioni delle politiche. Lo scopo è quello di misurare le risorse che sono state messe in campo e di comprendere come le politiche si sono combinate tra di loro, anche cercando di individuare delle indicazioni utili per il futuro. Circa 2,6 miliardi di euro pari al 39% di spesa pubblica piemontese sono stati investiti in montagna nel periodo 2000-2006. È uno dei dati emersi dalla ricerca sulle politiche pubbliche per lo sviluppo montano presentata il 27 febbraio a Palazzo Lascaris. Lo studio realizzato dall'IRES su incarico del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della regione Piemonte ha messo in luce la necessità di una strategia condivisa e trasversale per la montagna.